Oggi è lunedì, allenamento degli allievi giovanissimi. Lunedì, allenamento dei giovanissimi e allievi, i due mister, qua c'è il mister Gabriele. E là c'è il mister Giovanni, ecco il piccolo Franco di Fresco, qua c'è Gabriele, qua c'è i due portieri, Johnny e Umberto. Questo è il video che sto facendo. Ah, volete la foto? E ora facciamo la foto, aspetta.